Buonasera a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Io sono Angele e oggi parleremo di uomini e donne, ma soprattutto di Lorenzo e Claudia, la coppia molto amata che è nata proprio un anno fa nel programma di Maria Di Filippi a uomini e donne. Ebbene, loro, anzi, Lorenzo ha confessato proprio sul settimanale mio che non dorme insieme alla sua bella Claudia. Una scelta questa già sentita da molti VIP, come ad esempio Maria Di Filippi ha confessato che non dorme insieme a suo marito Constanzo o anche la Mara Venier non dorme insieme a suo marito. Ma vediamo un attimino che cosa ha scritto in questa intervista proprio il nostro Lorenzo. Ecco cosa dice Lorenzo, io e Claudia andiamo molto d'accordo, lei non è una che rompe le scatole, ogni tanto si impunta sulle cavolate, dice che sono disordinato, ma non è vero, la vero disordinata è lei. Io pulisco, per esempio, però lo faccio solo in sala, perché praticamente vivo lì a premesso. Claudia, infatti, e io dormiamo pochissime volte insieme, perché io dormo con la TV accesa e non riesco con il buio pesto. Quando entro in camera, a volte è tutto chiuso e tutto buio, che non riesco a trovare nemmeno il letto. Quindi questa è una scelta dettata solo da abitudini diverse, ma non dall'amore, perché loro si amano ogni giorno di più e pensano anche a un prossimo, magari, matrimonio. E voi cosa pensate di questa coppia? Scrivetemelo nei commenti. Vi aspetto per tanti altri prossimi video. Grazie. 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 Grazie a tutti